GLS 600 MyBuck. Io sono Gabriele e oggi andremo a scoprire i dettagli che la rendono unica. Partendo dalla splendida tinta bicolore exclusive rosso rubelite e nero ossidiana, con logo MyBuck sul montante laterale e scritte posteriori a contrasto. Passando al frontale con questa imponente calandra, con stilemi dedicati unici del brand MyBuck. Il cuore pulsante è un V8 4000 di cilindrata con tecnologia mild hybrid che sprigiona 410 kilowatt per 730 Nm di coppia ed è capace di accelerazioni da 0 a 100 in 4,9 secondi. Per un comfort più totale abbiamo ammortizzatori Airmatic con sistema intelligente e-Active Body Control. Il tutto poggia su questi enormi circhi da 23 pollici lucidati a specchio. La facilità di accesso è garantita da predellini estraibili elettricamente. Avvolti da morbida pelle exclusive bianco cristallo si viaggia nel comfort più totale. Il tutto è garantito da un'esclusiva modalità di guida denominata MyBuck e dai migliori sistemi di assistenza alla guida. Nel mentre i passeggeri verranno accolti in un salotto esclusivo con tablet dedicati e display full hd touchscreen, sistema audio burmaster 3d da 28 altoparlanti, luci soffuse a 64 colori e splendidi sedili climatizzati riscaldati con funzione di massaggio. E per la privacy più totale, ehi Mercedes, chiudi le tendine. Tutto questo e molto altro lo potrete vivere solo da Merbug. A presto! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!